E' collegato con noi il segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Raffaele Lorusso, lo ringraziamo di questa sua disponibilità. Segretario, momenti difficili in questo periodo, si scende in piazza per rivendicare i propri diritti e per porre all'attenzione delle istituzioni quelle problematiche che hanno bisogno di maggiore attenzione. Anche la Stampa ha voluto fare questo. Ci può dire prima di tutto le motivazioni e poi se vi sono stati dei risultati? Sì, buongiorno intanto. Noi siamo da tempo impegnati a chiedere l'attenzione del Governo su un settore, quello dell'editoria e dell'informazione, che è alle prese con un passaggio epocale. Siamo in una fase di trasformazione, si sta passando dai mezzi di comunicazione, dai mezzi di informazione tradizionali ai mezzi digitali. Noi riteniamo che questa fase di trasformazione debba essere accompagnata anche da misure di sostegno da parte del Governo, esattamente come avviene per altri settori vitali dell'economia di questo Paese. Purtroppo questo fino ad oggi non è avvenuto, per cui il settore che è alle prese da tempo con una crisi strutturale che investe non soltanto i media italiani, ma i media di tutto il mondo, deve fare i conti con aziende in difficoltà, perdita di posti di lavoro e lavoro che diventa sempre più precario. Quindi da questo punto di vista è quanto mai necessario l'avvio di un tavolo di confronto con il Governo. Sì, l'auspicio è questo, il Governo che è preso da tante problematiche, l'emergenza Covid, ma oramai possiamo dire che non può essere il Covid una motivazione che possa portare problematiche importanti come quelle a cui lei ha fatto riferimento ad essere rinviate continuamente. Anche perché, se vogliamo parlare di emittenza locale, si sta procedendo quindi con i nuovi bandi, con le nuove assegnazioni degli LCN, quindi anche lì vi saranno purtroppo delle problematiche. In molti posti di lavoro noi prevediamo che saltino perché non vi sarà lo spazio per tutti. Anche su questo noi abbiamo chiesto al Governo di farsi carico di quella che è la situazione attuale, di quella che è la situazione di molte imprese che oggi riescono a stare sul mercato e a garantire i posti di lavoro. Sarebbe un delitto pensare che in nome di una trasformazione che riguarda la nuova TV digitale, l'assegnazione dei nuovi LCN, si vada a smantellare o comunque a impoverire un sistema che fino ad oggi ha garantito informazione di qualità, ha garantito pluralismo, ha garantito posti di lavoro. Pluralismo che significa mettere, porre all'attenzione di tutti quelle difficoltà e quelle necessità ma anche quelle positività che ogni territorio ha nella sua comunità e che con l'assenza di emittenti televisivi e di giornali, insomma, della stampa potranno sempre più difficilmente poter essere, diciamo, documentate. E se noi guardiamo gli archivi delle tante TV, dei tanti giornali, possiamo leggere la storia della nostra Italia, della nostra Puglia, delle nostre città, segretario? Beh, sicuramente sì, i giornali, le televisioni locali, soprattutto le televisioni locali, sono l'espressione del territorio, sono le voci del territorio e quindi svolgano anche un servizio pubblico perché danno voce a molti territori, sono i portatori delle istanze dei cittadini di intere parti d'Italia. Segretario, queste garanzie e tutele dei giornalisti, si arriva addirittura alle minacce e anche a qualcosa di più, ma vediamo come se la politica fosse un po' più lontana da queste situazioni, insomma. Abbiamo visto quello che è successo alla CGL, quello che è successo in piazza, ma forse vediamo meno attenzione nei confronti dei cronisti, si parla sempre a margine delle attività dei giornalisti? Ma non è che si parli a margine, il problema è che i giornalisti sono nel mirino da tempo, diciamo sono sempre più oggetto di aggressioni, di minacce, non soltanto da parte dei cosiddetti novax o dei negazionisti, ma anche sono stati fatti oggetto di attacchi di stampo fascista, quindi sono rimasti vittime di atti di squadrismo da questo punto di vista. Fermo restando che poi da tempo in molti territori, soprattutto del sud, ci sono colleghi minacciati dalla criminalità. Ecco, noi chiediamo alla politica di andare oltre quelle che sono le manifestazioni di solidarietà e di farsi carico invece della messa a punto non soltanto di provvedimenti a protezione del lavoro dei giornalisti, ma anche di provvedimenti che possano in qualche modo individuare e mettere nelle condizioni di non nuocere sia gli esecutori materiali, sia i mandanti di questi atti gravissimi, perché sono atti non soltanto contro le persone, ma sono atti contro la convivenza civile di questo Paese, sono atti contro l'articolo 21 della Costituzione. Segretario Lorusso, i giornalisti devono lavorare tranquillamente, devono poter esprimere i fatti senza dubbio, liberamente. E allora queste querele è bavaglio, ecco non se ne può più. Ti arriva una querela tra capo e collo, mi scusi questa affermazione, e alla fine devi pagare l'avvocato, devi perdere tempo, investire il tuo tempo in tribunale e poi magari ritrovarti in quell'ambiente da dove è partita la querela a fare un nuovo servizio. E non si è tranquilli, diventa sempre più difficile documentare quelle che sono le realtà locali, anche il singolo Consiglio Comunale, la singola scaramuccia tra due parti politiche. Ecco, ti arriva facilmente, ti giunge facilmente una querela. Queste querele è bavaglio, non se ne può più. No, sicuramente sì. Premesso che in uno Stato di diritto, chiunque ritenga che i propri diritti siano stati lesi a tutta la legittimità ad agire in giudizio, questo è fuori discussione, quindi anche i giornalisti possono sbagliare, anche i giornalisti possono essere citati in giudizio. Quello che non si può accettare è che questa citazione in giudizio venga utilizzata come un'arma di intimidazione, un'arma di minaccia, cioè lo si faccia, per esempio, quando sta partendo un'inchiesta giornalistica proprio per impedire al giornalista, magari anche al suo editore, di continuare di portare avanti quella inchiesta. Questo è assolutamente inaccettabile, ecco perché noi chiediamo da tempo l'approvazione di una norma che tra l'altro giace in Parlamento, ma non compie alcun passo avanti o non ha compiuto alcun passo avanti fino ad oggi, una norma che scoraggi questo fenomeno e che imponga praticamente a chi agisce contro un giornale o contro un giornalista, ma poi viene stabilito da parte del giudice che l'azione era completamente infondata perché sostanzialmente temeraria, allora noi chiediamo che venga imposto a chi ha fatto un uso temerario della giustizia e lo ha fatto contro un organo di stampa di pagare non soltanto le spese legali, ma anche una sanzione proporzionale all'entità del risarcimento richiesto al giornalista. E mentre i giornali, mentre la stampa deve fare i salti mortali per poter continuare ad andare avanti a recuperare risorse, le notizie vengono pubblicate sui social, su Facebook e quant'altro e in molti casi risultano delle fake, perché fino ad oggi non c'è questa attenzione da parte della politica a cercare di controllare, non dico che bisogna non pubblicare su Facebook, ma quantomeno vediamo nella Polizia Postale, non vediamo un rafforzamento nei sistemi di controllo di questi social, le fake vanno avanti come se nulla fosse accaduto in passato? Non spetta sicuramente alla Polizia Postale andare a scovare le fake news, semmai la Polizia Postale dovrebbe scovare, dovrebbe individuare i reati commessi nella rete. Il fenomeno delle fake news si combatte con la buona informazione, ecco perché noi chiediamo interventi di sostegno, misure di sostegno alla informazione professionale. Questo proprio perché l'informazione professionale serve a sminare quel tipo di attività, l'informazione professionale deve servire a far sì che l'erba buona cacci via quella cattiva, ecco perché bisogna potenziare l'informazione professionale. Sì, io intendevo la Polizia Postale, nel senso che quando parte la denuncia per alcune informazioni diciamo che fanno anche, che danneggiano anche come atti di bullismo o altro. Allora, segretario, veniamo ai problemi di casa nostra. La questione della Gazzetta del Mezzogiorno si è finalmente risolta o dobbiamo continuare ancora a tenere i fari accesi su questa vicenda, secondo lei? Intanto bisogna fare in modo che, adesso che si è conclusa la vicenda giudiziaria, bisogna fare in modo che l'aggiudicatario, cioè chi si è aggiudicato alla proprietà della destata, possa mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per riportare al più presso il giornale Inedicona. Quindi io presumo che a breve si partirà con un'analisi della situazione e si faranno i passi necessari per consentire appunto la ripresa delle pubblicazioni che noi ci auguriamo avvenga prima possibile. Ecco, mi permette di concludere questa intervista con una sua dichiarazione a proposito di quello che è successo nei confronti della CGL e anche di quei cronisti e giornalisti che erano lì impegnati e hanno dovuto subire atti di violenza a Roma? Beh, intanto sicuramente sono stati atti di una gravità inaudita, atti inaccettabili, atti di stampo fascista, vista anche la matrice e la provenienza di alcune delle persone protagoniste di questi atti. Noi crediamo, ma lo stiamo chiedendo da tempo, che le autorità preposte intervengano nei confronti degli esecutori e dei mandanti. Noi già in passato, quando c'erano state delle aggressioni nei confronti di cronisti, avevamo denunciato la presenza in quelle piazze di persone sottoposte a misure di polizia e avevamo chiesto la ragione per la quale quelle persone fossero andate in piazza nonostante le misure restrittive. Adesso vediamo che qualcuno ha acceso a qualche riflettore su questa situazione e noi ci auguriamo che ci siano i provvedimenti conseguenti.